Il 10 novembre alle ore 16 a Piazza Farnese, grande manifestazione di tutti coloro che vogliono investire sulle energie rinnovabili, sul solare, sul futuro e l'occasione è un'occasione importante, esattamente i 20 anni da quel referendum dell'8 e 9 novembre 1987 in cui la stragrande maggioranza dei cittadini italiani disse no alle centrali nucleari del nostro paese e tutelò l'Italia dal grande problema che molti altri paesi hanno oggi di avere una quantità enorme di scori nucleari di cui non si sa ancora come trovare una destinazione cosiddetta finale. Ebbene noi dobbiamo rivendicare la scelta forte fatta dal popolo italiano, ricordarci che ancora oggi in tutti i sondaggi autorevoli che si stanno facendo la maggioranza dei italiani non vuole costruire le centrali nucleari ricordandoci che dopo 20 anni i problemi del vecchio nucleare da fissione, il nucleare radioattivo, quello che si produce con l'uranio, con il plutonio, sono tutti problemi assolutamente non risolti nonostante miliardi e miliardi di euro spesi nella ricerca per rendere cosiddetto sicuro il vecchio nucleare da fissione. Ad oggi quella è una scelta del passato, mentre in questi 20 anni tutti gli investimenti con molte meno cifre investiti sul solare hanno portato risultati che hanno decuplicato le capacità di trasformare il soli in energia disponibile attraverso il solare termico, attraverso il fotovoltaico, attraverso il solare termodinatico, il progetto di Rubia, il cosiddetto progetto Archimede che ha visto già a giugno aprirsi una grande centrale solare innevata negli Stati Uniti che vede progetti avviati in Spagna e finalmente nel Dpf di quest'anno, nel luglio scorso, anche l'Italia scegliere di puntare su 10 centrali solari da 50 Mbps nei prossimi anni. Dobbiamo andare verso il futuro, ecco perché anche il simbolo della manifestazione del 10 di novembre in Piazza Farnese è Solare Sigrazia. Passiamo dal nucleare Lino Grazia che fu la campagna vincente di vent'anni fa alla grande sfida di avere un mondo che possa utilizzare l'energia dal sole con un'energia democratica, disponibile, economica, sostanzialmente inesauribile e dalla quale ricavare poi anche quell'idrogeno che può servire per far circolare le nostre auto nel futuro o anche quei biocarburanti non da filiera alimentare che non distruggono l'economia e affamano il mondo che sono un'altra modalità che sempre viene dal sole perché tutto il mondo vegetale usa anche in questo caso il sole per produrre energia. Quindi a tutti appuntamento il 10 di novembre a Piazza Farnese alle ore 16 con una grande iniziativa con la testimonianza anche di chi ha combattuto contro la tragedia di Chernobyl nell'ex Unione Sovietica con la rappresentanza dei Verdi Europei che verranno a spiegare quali sono le battaglie principali ma anche con artisti e personalità che verranno a dare il loro supporto a una grande azione perché il futuro dell'Italia sia legato al sole e alle fonti rinnovabili e non al nucleare, al passato e alla radioattività. Grazie 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 Grazie